Buonasera, qui siamo a Subereto, a Galleria San Martino. Questa sera si chiama la mostra di Maggià di Montavervi. Prego, facciatevi. Questa è la offensi, Maggià di Montavervi, una ragazza iraniana che vive a Gripal. Lei ha fatto questa mostra con una tematica molto importante, i diritti della donna. Niente, in questa mostra si possono vedere opere, diciamo, che parlano di questo. Donne, diciamo, in libertà, donne con espressione varie, che potete comunque sviare. Vedete, ora si dà un'acchiata e si guarda qua tutta la mostra. Prego, venite e si guarda la mostra. Ecco, qui ci sono donne in varie posizioni. Dove si può vedere la libertà, in questo caso, della donna. è quella che vuole essere le sue espressioni, le sue espressioni di tranquillità, di armonia, di bellezza. Poi c'è la parte linguistica, cioè la parte della religione tra cristianesimo e islamismo. dove si vede, comunque, in ambitudine di realtà, si può denunciare la libertà, la libertà che è una religione di verità un pochino più oppressa, diciamo così, non oppressa. Credo che queste foto, queste immagini sono molto eloquenti. Io sono molto contento di aver fatto questa mostra, perché Mageli lotta contro i diritti della donna nel suo paese. E questa cosa, in un certo senso, per lei è una cosa molto importante, ma è anche un trigo in questo caso. perché nel suo paese questa cosa, l'età, ecco, per cui le rischi anche, ma qui in Italia non è stata questa rinuncia. Ed io le ho appoggiato completamente tutto il discorso. E che dire ancora? Sono contento di essere tutti in sé qui. E poi vediamo che questa mostra abbia successo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.